Dal 7 all'11 ottobre l'oncologia di Piacenza volerà a Copenhagen per l'European Society Medical Oncology, dove saranno presenti i maggiori centri oncologici del mondo per presentare in anteprima il programma di ricerca portato avanti sul tumore al polmone. Piacenza praticamente compare assieme ai centri di San Diego, di Boston, il Dana Faber, che è un centro prestigiosissimo, di Philadelphia, di New York, e quindi davvero questo ci ha reso molto felici non solo l'oncologia ma anche altri reparti che collaborano con noi perché come si diceva per fare ricerca è necessario che ci sia un'infrastruttura di supporto anche al reparto che fa ricerca. Ci deve essere una radiologia molto buona, un'atomia patologica, la chirurgia, gli specialisti di Branca come la gastroenterologia, la pneumologia il laboratorio. Parlando del tumore al polmone, quali sono le possibilità di guarigione? Il tumore al polmone storicamente veniva curato quando si trova in una fase localizzata con l'intervento chirurgico, veniva curato con la chirurgia, radiazioni e chemioterapia. Solo negli ultimi anni si è capito che non tutti i tumori al polmone sono uguali ma all'interno dello stesso tipo di tumore al polmone come l'adenocarcinoma vi possono essere cellule che hanno come l'antenna sulla superficie, allora possono ingiovarsi di un farmaco, altre cellule che hanno una mutazione genetica possono ingiovarsi di un altro farmaco e ancora proprio recentissimamente si sono trovate delle medicine che stimolano il sistema immunitario che attivano i linfociti che erano bloccati dal tumore e quindi si lavora molto di più ora sulla ricerca biologica e sull'utilizzo di farmaci così dati biologici che agiscono proprio sul bersaglio della cellula. Il fattore di rischio principale del tumore al polmone continua ad essere il fumo di sigaretta. Siamo sicuri che se non si iniziasse a fumare o se si smettesse quasi il 70% dei tumori al polmone lo vedremmo scomparire. A Piacenza vengono registrati circa, almeno da noi presi in carico, 170 nuovi pazienti all'anno con tumore al polmone. La tendenza è che il tumore al polmone sta calando negli uomini mentre sta aumentando nelle donne che hanno cominciato un po' più tardi a fumare.